Cara Blu, come stai? Qui oggi il meteo segnala un giorno di merda esattamente come tutti gli altri. Merda piatta, merda costante, merda continua e ugualmente spalmata su tutte le 24 ore della giornata. Quando avevi 16 anni, ogni giorno sembrava uguale a tutti gli altri. Forse è adesso che leggi ti sembrerà impossibile, ma 25 anni fa era così. Alla fine dei conti era sempre tutto uguale. Propongo un prendisi ai tre più grandi sfigati del liceo Newton. o forse della città. No, che fai? Lasciala! Però l'amicizia è una cosa grandiosa. Questo ricordatelo. E se arrivata a 40 anni non hai amici, beh, datti da fare. Perché sono loro che ti salvano. Loro basta. Siete mai stati licenziati o mollati dal fidanzato o dalla fidanzata al telefono? Beh, non vi preoccupate perché non siete gli unici. Persino James Bond, cioè Pierce Brosnan, è stato liquidato durante le riprese di un altro film con una secca telefonata dei produttori che gli hanno comunicato Sei stato bravo, non farei più James Bond. Grazie, ciao. Non male, eh? Voi invece non mi mollate per favore e cliccate qui accanto per tanti altri meravigliosi video. Alla prossima!